Speriamo tutti che già da stamattina ci fosse qualcuno che acquistasse, però c'è un'altra possibilità, quindi mi auguro che non venga spiegata, perché sicuramente è l'ultima, che si riesca a trovare la quadratura del cerchio rispetto a quello che è il debito sportivo e da lì poi sono sicuro che un acquirente lo troveremo. I giocatori, i tuoi colleghi che ancora non sono decisi ad abbatterlo? Ci saranno ancora delle trattative in corso, speriamo che stamattina vi faccia capire che c'è un'ultima possibilità, superata quella nessuno prenderà più niente, quindi mi auguro che anche questo serva a far cambiare l'idea a qualcuno. Anche perché tutte le strategie che ci possono essere per provare a tirare la corda ora non hanno più senso? No, fino ad oggi ha dimostrato che tirare la corda non porta a niente, perché se non si abbassa ulteriormente il debito nessuno compra. Quindi, ripeto, mi auguro che serva a far capire che bisogna trovare una strada comune tutti insieme, perché se no non se ne viene fuori. Grazie. Prego. Ciao.